L'Italia è il secondo paese in Europa dopo la Grecia in cui è maggiormente diffusa la corruzione. Lo dicono i dati ufficiali, è un paese dove c'è questa piaga, non ha futuro, perché la corruzione blocca lo sviluppo economico e impedisce alle imprese di innovarsi per essere competitive. In Molise da qualche mese è nata una commissione regionale anticorruzione che indaga su abusi collegati al voto e alla gestione pubblica. Su 44 casi segnalati, 13 hanno avuto risvolti penali. Gli altri sono stati segnalati per irregolarità contabili e amministrative. Tanti cittadini che finora si sono rivolti all'organismo che è presieduto dal professor Vincenzo Musacchio. Dalla società è stata accolta benissimo, nel senso che abbiamo avuto riconoscimenti non solo nazionali ma anche internazionali. Addirittura recentissima la comunicazione da parte dell'organizzazione per la lotta alla corruzione europea, la quale il 18 giugno ci ha invitato a Bruxelles per un incontro di studio e per iniziare una collaborazione con noi della commissione regionale anticorruzione insieme alla Guardia di Finanza. Siamo gli unici due organi in Italia che potrebbero collaborare con questa organizzazione. Da parte delle istituzioni molisane purtroppo non abbiamo avuto grossi riconoscimenti, però siamo fiduciosi soprattutto che da parte della regione, dal nuovo governatore, ci possa essere l'accreditamento della nostra commissione per poter essere più efficaci e più incisivi nella lotta alla corruzione nella nostra regione. Prima della denuncia occorre un cambio culturale di mentalità a partire dai cittadini. Così il procuratore capo di Larino Ludovico Vaccaro ha esordito nel suo intervento sulla corruzione nella pubblica amministrazione. Dovete abbandonare l'idea di andare avanti per favore o raccomandazioni, ce la dovete fare con le vostre forze. Questo è il messaggio lanciato da Vaccaro agli studenti della scuola media Maria Brigida, premiati per aver realizzato un disegno che ha vinto il premio Sandro Pertini. Nonostante in Italia la corruzione sia un aumento, si è ridotto il numero dei reati denunciati. Questo è segno di sfiducia verso la giustizia e per questo che, secondo Vaccaro, è necessario invertire la rotta. Fa parte di un impegno della procura anche a contribuire a un cambio di mentalità. Ecco perché siamo qui nelle scuole. Oltre che c'è l'occasione di premiare una bambina, una ragazza che ha vinto un concorso con un disegno, c'è poi la necessità, l'esigenza che io avverto, di contribuire a un cambio culturale e ovviamente partire dalle scuole è importante. Perché la corruzione non è soltanto un fenomeno che si combatte con la repressione, ma soprattutto con la prevenzione.